Politica, Valentino Di Brizzi aderisce al partito Lega Salvini Premier, partito di grandi professionalità, insieme per risollevare provincia e regione. Carcere, sala Consilina, Bonafede, la chiusura scelta opportuna e necessaria. Sassano, chiusura scuola d'infanzia, Maria Santissima Pellegrina, mamma in rivolta, vogliamo un confronto, manca una motivazione ufficiale e documentata. Operazione Sele Pulito, la Guardia di Finanza sequestra otto aziende bufaline per violazioni ambientali. Comune di Sansa, ecco due nuovi veicoli in dotazione all'ente. Buonasera, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo il nostro telegiornale con la politica. Il coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier, Nicola Sesposito, con una nota stampa, ha ufficializzato l'adesione al partito dell'imprenditore valdianese Valentino Di Brizzi, che, sottolineando la presenza all'interno del partito di grandi professionalità capaci di poter risollevare le sorti del territorio valdianese provinciale e regionale, rimarca come la decisione sia stata assunta in rispetto del suo attaccamento al territorio. Certo che le grandi capacità amministrative dimostrate dalla Lega potranno aiutare anche il territorio campano. Vediamo il servizio. La notizia era nell'aria ed è stata ora ufficializzata. Il partito della Lega si radica sul territorio salernitano con l'ingresso dell'imprenditore valdianese Valentino Di Brizzi. Ad annunciare l'adesione di Di Brizzi è il coordinatore provinciale del partito, Nicola Sesposito, salutando con favore il suo ingresso. Con piacere, dichiara Esposito, accogliamo ufficialmente nella famiglia della Lega l'amico Valentino Di Brizzi, uomo con una grande voglia di fare, capace e per bene, che darà un importante contributo alla crescita del partito in provincia di Salerno. Dopo anni di militanza e fedeltà al partito di Forza Italia, senza però ricevere dal partito il supporto per combattere le battaglie necessarie al suo territorio, Di Brizzi ha quindi deciso di abbracciare il progetto della Lega, fiducioso nelle competenze presenti all'interno del partito, che, come dichiara l'imprenditore valdianese, saranno capaci di risollevare le sorti del territorio. «Sono impegnato in politica da oltre 25 anni», spiega Di Brizzi, «e ho fatto della coerenza uno dei valori che sempre mi ha caratterizzato. Ho lasciato Forza Italia, unico partito in cui ho militato, quando mi sono dovuto rendere conto che abizioni personali venivano poste avanti a tutto, negandomi la possibilità di restituire al mio territorio quanto dallo stesso avevo ed ho sempre ricevuto. Da circa due anni frequento gli amici della Lega, ho imparato a conoscerli e in loro ho trovato grandi professionalità, pragmatismo, entusiasmo e voglia di fare. «Ho scelto dunque, continua l'imprenditore del Vallo di Diano, di contribuire alla crescita del progetto Lega in Campania, con la stessa coerenza che mi ha contraddistinto fino ad ora, convinto, come sono, che insieme a loro potremmo riportare la nostra regione e la nostra provincia a livelli invidiabili». Di Brizzi manifesta la consapevolezza delle difficoltà e delle problematiche con cui si dovrà confrontare, ma si dice anche pronto alla sfida, certo, di poter contare sulla forza e il valore di un territorio e delle professionalità di cui è ricco. «Sarà un lavoro non facile», sottolinea, «ma noi, dalla nostra parte, abbiamo un popolo fatto di imprenditori, professionisti, medici e giovani che non ha nulla da invidiare a nessuno. Per questo dobbiamo fare squadra e per questo voglio farlo insieme alla Lega, che ha sempre dimostrato grandi capacità amministrative». Ringrazio dunque il segretario regionale, l'onorevole Nicola Molteni, ed il segretario provinciale di Salerno, Nicola Sesposito, per aver creduto in me e per avermi accolto in questa famiglia. A loro, dichiara in conclusione Valentino Di Brizzi, «assicuro tutto il mio impegno, ma a loro chiedo uguale dedizione a difesa della nostra provincia e della nostra regione». Il Ministro della Giustizia ha risposto ieri ad un'interrocazione alla Camera sulle richieste di riapertura del carcere di Sala Consilina che arrivano dal territorio. La chiusura, ha spiegato, è stata una scelta opportuna e necessaria, ma tutte le considerazioni saranno valutate attentamente per una decisione conclusiva. Vediamo. Chiudere il carcere di Sala Consilina è stata una scelta opportuna e necessaria e in sintesi quanto espresso ieri alla Camera dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, interrogato dal deputato Conte. Il Ministero affermato conosce le richieste di riapertura provenienti dal territorio ed è pienamente consapevole delle difficoltà incontrate dagli operatori e dai congiunti dei reclusi. Occorre però rammentare che il funzionamento di un istituto penitenziario impone sempre una ben determinata organizzazione funzionale e che nel caso di Sala Consilina, dai dati forniti dall'amministrazione penitenziaria, il rapporto tra personale in servizio e detenuti di circa uno a uno rappresentava un valore assolutamente sproporzionato in contrasto con ogni principio di razionalità e buona amministrazione delle risorse, sia economiche che professionali. Il Ministro ha poi spiegato che viene individuato in circa 100 posti detentivi il limite minimo sotto il quale la gestione di un istituto penitenziario risulta essere anti-economica, come peraltro da indicazioni giunte dalla Corte dei Conti in tema di spending review. Bonafede ha aggiunto che è stata valutata anche l'offerta del Comune di Sala Consilina di provvedere all'adeguamento funzionale della struttura penitenziaria con l'accollo dei relativi oneri, ma anche se fosse stata accolta favorevolmente, ha affermato, la capienza dell'istituto sarebbe rimasta limitata allargamenti al di sotto del predetto limite di sostenibilità. L'eseguità numerica dei detenuti che, in ipotesi, l'istituto avrebbe potuto accogliere non sarebbe stato in grado di rendere opportuno e conveniente l'impiego del personale e l'attivazione dei servizi necessari alla gestione della struttura. Gli uffici competenti hanno quindi confermato l'opportunità della soppressione. Infine, il Ministro ha affermato che queste considerazioni saranno oggetto di attenta valutazione per addivenire ad una decisione conclusiva. L'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consilina preseduta dall'Avvocato Angelo Paladino, esprime forte rammarico per la risposta fornita dal Ministro Bonafede riguardo alla riapertura della Casa Circondariale Salese. Ha ripetuto in maniera cinica e ragioneristica le argomentazioni burocratiche espresse già dal DAP, dice l'Avvocato Paladino. Il Ministro non ha dato alcuna risposta in termini politici alle esigenze del territorio e di un corretto funzionamento del servizio giustizia. Non è sopportabile la farsa di un Ministro che si trincera dietro il paravento del DAP, organismo, alle sue dipendenze, addebitando adesso la responsabilità di una decisione che compete solo ed esclusivamente a lui. La risposta politica a questo punto devono darla al territorio, oltre che il Ministro. i parlamentari che sono stati votati dai nostri cittadini e che appartengono al Partito di Bonafede. Noi, conclude, continueremo a lottare e a chiedere conto a tutti. Ed ora andiamo avanti e cambiamo argomento. Non ci stanno le mamme dei bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia Maria Santissima Pellegrino di Varco Notarercole di Sassano ad accettare la decisione dell'Ordine delle Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino di chiudere la scuola d'infanzia dopo oltre 50 anni di attività utile ed indispensabile alla crescita dei bambini, indirizzando verso una crescita sana, equilibrata e ricca di valori i bambini. Continua la lotta finalizzata a garantire alla comunità un servizio indispensabile e difficilmente individuabile in altre scuole d'infanzia, soprattutto per le tantissime mamme che lavorano e che oggi necessitano di orari flessibili e di poter contare su qualcuno capace di assistere ai propri figli con la cura e l'amore di una famiglia. Giovanna D'Alessandro e Valentina Ventriglia, in rappresentanza delle mamme, Giussi Lise, rappresentanza delle docenti della scuola d'infanzia, ai nostri microfoni spiegano la vicenda ricordando come oggi manca ancora un documento o comunque una spiegazione chiara ed ufficiale del perché della chiusura della scuola d'infanzia che non ha problemi discritti, che per le mamme è sicura e dotata di tutte le misure a tutela dei bambini e che soprattutto fornisce un supporto fondamentale per i genitori che lavorano, anche per la flessibilità degli orari. Alle motivazioni adotte spiegano abbiamo anche individuato possibili soluzioni pronti a tutto per superare gli ostacoli. Ogni volta non è stato accettato il nostro aiuto. Qual è il motivo della chiusura? Ascoltiamo l'intervista realizzata presso la scuola d'infanzia Maria Santissima Pellegrina. Ci proviamo ormai da qualche mese, da quando a gennaio abbiamo ricevuto dall'ordine religioso delle suore Ancelle di Santa Teresa la comunicazione della chiusura dell'asilo. In realtà un comunicazione deducibile dalle poche righe che ci hanno mandato dicendoci che non avremmo dovuto accettare iscrizioni per l'anno scolastico successivo. Sì, ci sono delle motivazioni sull'inidoneità, a quanto pare, dell'edificio. Un'inidoneità però che non ci è chiara. Cioè noi vorremmo delle motivazioni scritte per la chiusura dell'asilo alle quali poterci appellare e in modo da provare insieme all'amministrazione che ci ha offerto il suo supporto e con l'aiuto di tutti noi genitori che abbiamo intenzione anche economicamente di supportare le suore per fare in modo di rendere agibile l'asilo nelle parti in cui non lo è perché non abbiamo capito bene quali mancanze ci siano perché in tanti anni, onestamente, i nostri bambini sono stati al sicuro davvero in tanti anni e quindi vorremmo capire meglio il perché. Un'altra motivazione che ci hanno dato è quella a causa della crisi vocazionale della mancanza di una religiosa non in età pensionabile che possa insegnare qui invece delle due docenti laiche che ci sono ora. In realtà però anche lì pensiamo in qualche modo di poter sopperire a questa mancanza con una suora che magari possa fare da supervisore in qualche modo insomma noi vogliamo fare il possibile perché l'asilo non chiuda e per assicurare una continuità ai bambini iscritti quindi quelli del primo e del secondo anno che si vedrebbero costretti ad andare in un'altra scuola e soprattutto in questo periodo in cui appunto è necessario per i bambini assicurare appunto per il nuovo anno scolastico un distanziamento e quindi noi pensiamo che questa struttura con pochi bambini in questa struttura sia possibile assolutamente continuare l'attività scolastica. In realtà insomma cosa sperate di riuscire ad avere almeno oltre alla riapertura immagino? Sì queste motivazioni appunto avere ben chiaro il motivo della chiusura dell'asilo in modo da capire se qualcosa si può fare sia insomma se serve soltanto un sostegno economico se c'è bisogno di altro e quindi faremo il possibile chiederemo l'aiuto di chi noi abbiamo anche trovato dei tecnici disposti ad aiutarci anche in maniera gratuita e quindi vogliamo provare vogliamo capire se qualcosa si può fare prima di rinunciare completamente e di far chiudere sinceramente un asilo che è un'istituzione e che insieme all'asilo verrebbe davvero anche morire un quartiere perché quest'asilo tiene vivo anche un intero quartiere. Un 55enne calabrese è stato arrestato questa mattina dalla polizia a Salerno è stato sorpreso in via Duomo nel cuore del centro storico dove una volante è intervenuta per soccorrere una donna vittima di stalking da parte del suo ex compagno l'uomo era arrivato da Locri a diversi precedenti ed è stato arrestato e si trova a Forni a suo carico era stato emesso dal tribunale di Locri un ordine di carcerazione di un anno e cinque mesi per i reati persecutori violazione di domicilio nonché porto abusivo di armi ed ora voltiamo pagina i finanzieri del comando provinciale di Salerno nell'ambito dell'operazione Sele Pulito hanno sequestrato otto aziende bufaline per violazioni ambientali scoperti gravi illeciti relativi allo smaltimento dei liquami rilevati maltrattamenti di animali trovati in lavoratori extra comunitari in nero vediamo i dettagli Gravi illeciti nella Piana del Sele con smaltimento di liquami che in molti casi venivano scaricati direttamente nei canali consortili mediante sistemi di canalizzazione pozzetti e tubazioni interrate realizzati ad hoc contaminando gravemente il terreno e le acque circostanti destinate poi a riversarsi in mare e quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Eboli nel corso delle ispezioni individuando anche numerose discariche abusive con rifiuti speciali di ogni tipo tra cui materiale inerte non trattato ferro arrugginito, plastica e scarti di lavorazione di prodotti ortivi delle 20 imprese bufaline verificate nell'ambito dell'operazione denominata Sele Pulito ben otto sono risultate non in regola con la normativa ambientale sono stati così denunciati all'autorità giudiziaria di Salerno i rispettivi titolari con il sequestro di aree aziendali per una superficie complessiva di oltre 118 mila metri quadrati l'ultimo intervento dei finanzieri ha interessato un'azienda di Eboli in località Campolongo a poche centinaia di metri dal mare dove oltre allo sversamento illegale dei reflui sono stati rilevati gravi maltrattamenti di animali ad esempio i vitelli privi di lecchiere ed acqua in alcuni casi ammassati in box di ridotte dimensioni senza alcuna possibilità di muoversi è quindi scattato il sequestro dell'intero complesso spetterà al titolare accusato di gravi violazioni ambientali e maltrattamento di animali il ripristino dello stato naturale dei luoghi e la bonifica dell'intera area qualche giorno fa a Serra e le fiamme gialle hanno sequestrato un'altra azienda agricola anche essa debita allo smaltimento illegale dei rifiuti in questo caso sono stati scoperti anche due lavoratori extra comunitari in nero con permesso di soggiorno scaduto i finanzieri del comando provinciale di Salerno sono impegnati in prima linea nel contrasto dei reati in materia ambientale fenomeno sempre più allarmante nella piana del Sele con un piano coordinato di controlli tutte quelle aziende agricole con sedie attigue a corsi d'acqua fluenti al fiume Sele sono ora nel mirino delle fiamme gialle che dall'inizio dell'anno sono già intervenute presso oltre 20 allevamenti bufalini per analizzare le modalità di gestione dei reflui zootecnici Movida violenta nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Angria hanno denunciato in stato di libertà per rissa sette giovani del posto tra i 23 e i 28 anni i fatti risalgono allo scorso il 19 luglio avvenuto in via Mezzonord nel centro cittadino la denuncia è arrivata subito dopo l'immediato intervento e l'attività info-investigativa svolta dall'arma locale che ha permesso di riscontrare la dinamica dei fatti uno dei denunciati medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocele Inferiore ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e andiamo avanti scippato in pieno centro ad Eboli ad un imprenditore due malviventi hanno portato via l'incasso di giornata del suo distributore di carburanti i 12 mila euro e sono fuggiti l'uomo era davanti ad un bangomat per effettuare il versamento vediamo il servizio scippato in pieno giorno dell'incasso di giornata 12 mila euro del suo distributore di carburanti ad Eboli la Eni di proprietà della famiglia Falcone due malviventi avvolto coperto e in possesso di caschi integrali a bordo di una moto di grossa cilindrata hanno seguito e sorpreso l'imprenditore ebolitano davanti a un bancomat di Viale Amendola dove l'uomo si era recato per effettuare un versamento i malfattori hanno preso alle spalle l'uomo strattonandolo e facendosi consegnare soldi per poi dileguarsi velocemente successivamente l'imprenditore ha raggiunto la caserma dei carabinieri della locale compagnia per sporgere denuncia avviate le indagini dai militari dell'arma agli ordini del capitano Luca Geminale il nuovo episodio di violenza accade in giorni dove le polemiche sulla sicurezza in città tra risse ed altri fatti di cronaca scatenano anche reazioni politiche Eboli è una città bellissima spiega in una nota il capogruppo consigliare di Forza Italia è candidato a primo cittadino per le amministrative di settembre Damiano Cardiello ma occorre maggiore sicurezza il sindaco Cariello dovrebbe spiegare come mai il sistema di videosorveglianza non garantisce quel deterrente necessario alla lotta alla micro e macro criminalità è una vergogna si dovrebbe dimettere perché è impensabile che nonostante l'incessante lavoro delle forze dell'ordine il comune di Eboli non faccia la sua parte a chiedere le dimissioni di Cariello è anche un altro candidato a sindaco Donato Santimone la famiglia Falcone scrive Santimone vittima di uno scippo in pieno centro il sindaco di Eboli si dimetta perché non è in grado di garantire la sicurezza da tempo avevamo chiesto come gruppo consigliare MDP-LEU un consiglio comunale sulla sicurezza nella città ebolitana Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità a tra poco Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale sentenza del TAR riformata e ricorso respinto nessun risarcimento dovuto alla Vematel dal comune di Padula la sentenza del Consiglio di Stato chiude definitivamente la vicenda a favore dell'ente comunale nessun ricorso è più possibile vediamo nessun risarcimento danno per la Vematel di Padula da parte del comune guidato dal sindaco Paolo Imparato i giudici del Consiglio di Stato chiudono definitivamente la vicenda che vedeva coinvolti la società Vematel dei fratelli Sanseviero di Padula contro il comune per i ritardi nell'espletamento della procedura di autorizzazione ad effettuare dei lavori di incremento volumetrico e di superficie su un fabbricato destinato ad attività commerciale un ritardo che avrebbe portato all'entrata in vigore di un nuovo decreto penalizzante dal punto di vista della richiesta della società da qui il ricorso al TAR dei fratelli Vincenzo e Francesco Sanseviero quali rappresentanti della Vematel per ottenere il risarcimento del danno cagionato secondo quanto spiegato nella sentenza del Consiglio di Stato pare che la società aveva presentato richiesta nel 2008 per effettuare lavori con richiesta di convocazione della conferenza dei servizi il parere è arrivato nel 2012 in cui veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda per effetto dell'entrata in vigore nel 2010 del decreto del Presidente della Repubblica che escludeva la possibilità di avvalersi del SUAP per le autorizzazioni sulle strutture commerciali secondo il TAR il ritardo imputabile al Comune non era giustificato dato che vi erano tutti i pareri tra cui anche il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza e condanna quindi il Comune al risarcimento del danno l'ente amministrato da Paolo Imparato ricorre al Consiglio di Stato che con sentenza pubblicata ieri 22 luglio non solo accoglie il ricorso del Comune ma riforma ossia cambia anche la precedente sentenza del TAR respingendo il ricorso presentato dalla Vemata e l'SNC nella lunghissima sentenza vengono elencate dai giudici della quarta sezione una serie di errori che erano stati commessi dai ricorrenti un'estenuante battaglia giudiziaria che si era aperta già durante la fase di lavorazione della pratica con la Vematel che aveva anche presentato ricorso contro delibere di giunta del Comune emesse in osservanza di quanto disposto dalla giunta provinciale intervenuta con richieste specifiche anche in virtù dell'eccessivo numero di richieste di variante che erano pervenute delibera che la Vematel aveva impugnato alla fine del 2010 a ridosso quindi dell'entrata in vigore del decreto ritardando il prosieguo del percorso amministrativo una lunga serie di dibatti e ribatti in cui sono emerse anche comunicazioni del Comune e la Società di integrazione dei documenti ieri la definizione della vicenda con la decisione dei giudici del Consiglio di Stato da cui si evince che anche la società è responsabile dei ritardi a seguito anche dei ricorsi presentati e delle impugnazioni delle delibere in ragione della fondatezza delle censure si legge infatti nella sentenza l'appello del Comune di Padula deve pertanto essere accolto e in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso di primo grado il Comune di Sant'Arsenio concederà un contributo una tantum alle attività commerciali del Paese in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus il Comune di Sant'Arsenio ha deciso di concedere un contributo straordinario una tantum di 200 euro alle attività commerciali e agli esercizi pubblici che hanno dovuto sospendere o chiudere la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus la decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale viene specificato che il contributo dovrà essere utilizzato e successivamente rendi contato esclusivamente per spese o interventi conseguenti all'emergenza sanitaria ai fini della riapertura del regolare funzionamento delle attività stesse il provvedimento è stato assunto non soltanto per le notevoli ripercussioni negative che l'emergenza ha causato dal punto di vista economico e sui livelli occupazionali ma anche perché la già precaria economia dei piccoli comuni e delle aree interne conseguenza anche dello spopolamento e dell'immigrazione giovanile è stata ulteriormente danneggiata dall'insorgenza della pandemia covid-19 con la drastica riduzione dei servizi e dello spostamento delle persone allo scopo quindi di favorire la progressiva ripresa dell'intero comparto commerciale e per agevolare la complessa fase delle riaperture il comune retto dal sindaco Donato Pica ha deciso di concedere ai titolari degli esercizi commerciali del paese il contributo una tantum di 200 euro da poter utilizzare per le spese obbligatorie e necessarie a tutela della salute degli operatori e degli utenti a Sanza due nuovi veicoli in dotazione al comune uno è già stato consegnato si tratta di un fuoristrada l'altro arriverà a breve ed è per la polizia municipale vediamo il comune di Sanza aumenta il parco macchine con un nuovo fuoristrada appena aggiunto in dotazione all'ente e un altro mezzo in arrivo è stato già consegnato un Ford Ranger utile in servizi di gestione manutenzione e controllo del patrimonio comunale è atteso invece un veicolo dotato di street view per la polizia municipale il mezzo già in dotazione all'ente è arrivato grazie ai fondi PSR Campania 2014-2020 e grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Vittorio Esposito orgoglioso della sua squadra amministrativa e soddisfatto anche nella scelta del fuoristrada rigorosamente in linea con gli standard antinquinamento il che conferma la grande attenzione alle politiche ambientali devo ringraziare dice il primo cittadino innanzitutto il vice sindaco Tony Lettieri e il consigliere Angelo Marotta per la determinazione hanno inseguito il bando e hanno lavorato instancabilmente per perfezionare l'acquisto di questa vettura necessaria per un comune come il nostro 12 mila ettari oltre 10 mila di boschi in area montana la vettura sarà al servizio della gestione del controllo del nostro patrimonio forestale e boschivo mi ritengo molto fortunato ad avere una squadra di collaboratori in amministrazione davvero valida sempre attenta ad ogni opportunità finanziaria ad accogliere attraverso bandi pubblici questo veicolo annuncia in conclusione esposito precede di qualche settimana all'arrivo di un altro mezzo che sarà in dotazione alla polizia municipale allestito con il sistema street view che agevolerà il lavoro di controllo del parcheggio selvaggio e della viabilità e con questo servizio termina questo appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata grazie per la visione